Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, parole chiave nel vocabolario di ogni impresa che voglia competere e sopravvivere sui mercati globali. La scorsa volta abbiamo parlato dello strumento PMI all'interno del programma Orizzonte 2020 cofinanziato dalla Commissione Europea. Stasera introduciamo un'iniziativa ancora meno conosciuta sul territorio abruzzese. Eureka nasce nel 1985 su spinta dell'allora governo Mitterrand che longimirante aveva compreso quanto fosse importante mettere a punto una strategia congiunta per contrastare la migrazione delle attività industriali ad alto contenuto tecnologico verso i mercati nordamericani e quelli che allora erano considerati gli emergenti mercati asiatici. Un network intergovernamentale quindi, una piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale e che desse sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo tecnologico provenienti dal mercato. Infatti i risultati dei progetti Eureka sono le tecnologie di uso quotidiano nella nostra vita. Un esempio, per fare un esempio tra i più recenti, proprio si pensi ai moderni mezzi di pagamento negli esercizi commerciali mediante telefono cellulare. Ad oggi Eureka raggruppa 41 Stati membri. Tra questi vi è chiaramente l'Italia che è uno Stato membro fondatore di Eureka e tre Stati associati, il Canada, il Sudafrica e la Repubblica di Corea. Ma anche la Commissione Europea, l'Unione Europea rappresentata appunto dalla Commissione, è un membro di Eureka. Ha tutti gli effetti e cofinanzia l'iniziativa. Infatti Eureka fa parte di quelle che sono le politiche di ricerca e sviluppo tecnologico della Commissione Europea e rafforza la dimensione internazionale e dello spazio europeo della ricerca, oltre ad agire congiuntamente con lo strumento PMI all'interno del programma Orizzonte 2020. Ma quanta strada ha fatto Eureka dal 1985? Dal 1985 più di 5.700 progetti finanziati, più di 26.000 organizzazioni coinvolte e 36 miliardi di euro di finanziamenti, di progetti finanziati, considerata anche la parte di cofinanziamento privato, chiaramente da parte delle aziende. Ed è interessante notare come tra queste 26.000 organizzazioni coinvolte ben 11.003 siano piccole e medie imprese. Quindi se da un lato Eureka predilige il mondo accademico, quindi le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, è fortemente auspicata anche la partecipazione delle piccole e medie imprese. Eureka opera attraverso tre strumenti, che sono i cluster, gli ombrelli e i progetti individuali. Attualmente vi è anche il programma Eurostars, che finanzia le piccole e medie imprese, abbiamo detto quindi, che rafforza la strategia PMI del programma Orizzonte 2020 della Commissione Europea. Al di là delle modalità con la quale si presentano i progetti, quindi sia all'interno di un cluster, di un ombrello o un progetto individuale, quello che è importante è che i progetti Eureka siano progetti innovativi, che sviluppino quindi innovazione di prodotto, processo, servizio. E soprattutto la grande particolarità di Eureka è che non vi sono programmi di lavoro predeterminati nei quali incastrare il proprio progetto, non vi sono preclusioni ai temi della ricerca. Quindi qualsiasi progetto che richiami un'esigenza di mercato può essere finanziato all'interno del programma. Poiché si tratta di progetti fortemente, diciamo, con un approccio bottom-up, per questo sono chiaramente progetti orientati al mercato e devono avere una dimensione internazionale, cioè essere presentati da partner di due diversi paesi che appartengono appunto al programma Eureka. Vediamo velocemente lo studio condotto dal governo della Danimarca nel 2011, che mostra quale sia l'impatto appunto della partecipazione ad Eureka, ad un progetto Eureka, sul proprio tessuto imprenditoriale. E vediamo che a distanza di tre anni dalla partecipazione si ha un aumento delle esportazioni per l'azienda che ha partecipato del 13%, un aumento dell'occupazione addirittura del 4-5% a un anno dalla partecipazione e un aumento della produttività dell'11-12% come tasso di crescita annuale. Quindi sicuramente, diciamo, i vantaggi molto significativi. Diamo un'occhiata adesso a quelli che sono i cluster. I cluster sono partenariati pubblico-privati che sviluppano nel medio-lungo periodo tecnologie chiave per il settore di riferimento. Assorbono una grande percentuale del budget di Eureka e se apriamo la pagina web sul sito internet eurekanetwork.org vediamo che vi sono attualmente cinque cluster già costituiti. Questo non esclude che possano essere in ogni momento formati dei nuovi cluster e allo stesso tempo si può aderire ai cluster esistenti. È fortemente auspicata anche qui la partecipazione delle piccole e medie imprese. Partecipare ad un cluster vuol dire non necessariamente partecipare ad un progetto promosso all'interno di un cluster, ma anche avere il polso su quello che è lo stato dell'arte, della tecnologia del proprio settore di produzione in quel momento. Poi abbiamo appunto gli ombrelli. Anche in questo caso vediamo che gli ombrelli ve ne sono quattro già costituiti che riguardano il manifatturiero, i materiali, il turismo e l'agroalimentare e anche qui si tratta appunto di network tematici che favoriscono la nascita di progetti nello specifico settore da parte delle aziende. Gli ombrelli sono, se vogliamo, un ambiente più consono ad ospitare la presenza di piccole e medie imprese e infatti se ci colleghiamo sempre al portale di Eureka, eurekanetwork.org e apriamo ad esempio la pagina relativa all'agroalimentare, vediamo che l'Italia è rappresentata dal Dipartimento della Regione Puglia, da Repuglia che è l'omologo del nostro polo agroalimentare quindi la partecipazione di reti di imprese è auspicabile e chiaramente di grande vantaggio per le aziende che la attuano. E infine dicevamo vi è il programma Eurostars a differenza quindi dei progetti presentati nell'ambito di cluster o di ombrelli o dei progetti individuali, un progetto Eurostar chiede necessariamente la partecipazione delle piccole e medie imprese. Il consorzio deve essere, cioè guidato, da una piccola media impresa e come abbiamo detto Eurostar opera congiuntamente allo SME IN, Strumento di Orizzonte 2020. Anche l'Italia ha stanziato fondi fino al 2020 per la partecipazione al programma Eurostars e la prossima scadenza c'è a marzo 2015. Non abbiamo volutamente parlato di percentuali di cofinanziamento nell'ambito di Eurostars, perché? Perché il programma presenta una struttura decentralizzata, cioè è vero che il progetto è cooperativo, è di collaborazione internazionale, ma i finanziamenti vengono erogati dal proprio punto di contatto locale, quindi ogni azienda riceve il finanziamento in ambito nazionale, dal proprio governo nazionale. Per l'Italia il Ministero di Riferimento di Eurostar è il Ministero dell'Industria e della Ricerca Scientifica, il MIUR, e aprendo appunto la pagina relativa all'Italia troviamo i riferimenti operativi che sono quelli dell'Enea. Quando apriamo sul portale di Eureka la pagina relativa appunto al proprio paese di riferimento all'Italia, ci ricordano che l'Italia è, membro fondatore dal 1985, uno dei maggiori contribuenti quindi del programma. E allora perché non provare? Arrivederci, alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.